Musica Protezione dei siti e rischio attentato e controllo dei soggetti a rischio radicalizzazione C'è l'allerta terrorismo in Veneto tra i temi trattati a Venezia dalla conferenza sulla sicurezza Particolare attenzione anche alle infiltrazioni mafiose Strage del bus precipitato a Mestre domani, Cavalcavia chiuso per consentire la ferita sul garrail Sul posto i consulenti dei PM, delle difese e delle parti offese Ieri in esclusiva ai nostri microfoni la testimonianza di un autista ex dipendente della linea Che ha evidenziato come i mezzi elettrici presentino anomalie alle sterzate Oggi siamo andati a fare delle verifiche Paura questa mattina a poriego della battaglia dove un bus della MoMA è uscito di strada Finendo con ruota nel fossato a causa della forte pioggia La banchina ha ceduto Pista da Bob ci dia fondazione Milano Cortina Confronto ma nessuna decisione messa nero su bianco Intanto la corte dei conti apre un fascicolo contro Gnoti Ladri in fuga speronano l'auto dei carabinieri E provocano un incidente arrestato un 28enne romeno E caccia il complice nella macchina trovati arnesi da Scasso e gioielli Allarme bomba questa mattina in tribunale a Treviso Palazzo evacuato Udienze sospese sul posto agli artificieri della polizia Ma non c'era alcun ordigno TG del Veneto, buonasera, ben ritrovati Partiamo con questa edizione del martedì sera Con il sondaggio che Ring vi propone Il tema è quello degli affitti turistici Con la cedolare secca che sale al 26% Lo trovate giusto? Questa è la domanda che vi poniamo Rispondete con una telefonata, con un sì oppure con un no Avete ovviamente in sovraimpressione i numeri differenti La chiamata, lo ricordo, è sempre gratuita L'esito del sondaggio al termine della puntata di Ring E poi andiamo a Venezia Questa mattina un vertice in prefettura Il prefetto di Bari convoca tutti i prefetti del Veneto I procuratori distrettuali antimafia Si parla di protezione dei siti a rischio attentato E controllo dei soggetti a rischio radicalizzazione Ma anche di infiltrazioni mafiose Vediamo Su fronte antiterrorismo Il contesto internazionale è sotto gli occhi di tutti Lo conoscete Anche nel Veneto si sono state adottate misure In esecuzione della direttiva E della direttiva del ministro Piantedosi C'è l'allerta terrorismo Sul tavolo della conferenza regionale Delle autorità di pubblica sicurezza del Veneto Riunita a Venezia A Cacorneri il prefetto Michele Di Bari Ha presieduto l'incontro con i procuratori distrettuali antimafia Di Venezia e Trieste Tutti i prefetti e tutti i questori del Veneto I comandanti regionali di Carabinieri e Guardia di Finanza Con tutti i loro comandanti provinciali E il dirigente del centro operativo della Dia del Veneto Noi abbiamo ben presente durante l'ordinarietà Che comunque esistono obiettivi sensibili Ci sono alcuni obiettivi sensibili Che necessitano però di una priorità E di una maggiore attenzione Ci sono anche contesti sensibili Cioè di radicalizzazione Possibile radicalizzazione Che vengono tenuti sotto contro Le forze di polizia E l'autorità giudiziaria Hanno un'attenzione particolare E che sono anche delle direttive Che spesso vengono adottate In seno al Comitato Provinciale Per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica La conferenza ha analizzato anche la situazione Dello spaccio di stupefacenti in regione In particolar modo a maestre Al cui contrasto si concentreranno più pattuglia Assieme a controlli mirati E servizi straordinari Anche con l'impiego dell'esercito I delitti in generale in Veneto Sono in diminuzione Ma è la macrocriminalità che spaventa Come le infiltrazioni di mafia Andrangheta e Camorra Già al centro di grossi processi I fenomeni malavitosi Soprattutto quando c'è una infiltrazione Questa infiltrazione ha requisiti di flessibilità Di mimetizzazione Che rispetto al passato Si riesce sempre con difficoltà ad individuare Ma che queste risposte giudiziarie Però nel Veneto Hanno dato un esito fortemente positivo Sentite che cosa è successo a Casale Sussile Ladri in fuga Hanno speronato l'auto dei carabinieri Hanno provocato un incidente Un 28enne romeno intanto È stato arrestato Poteva davvero terminare in tragedia La fuga di due ladri Che con tutta probabilità Hanno messo a segno Una serie di furti Tra Casale e Roncade L'auto Una lancia delta Mentre percorreva Via Nuova Trevigiana È stata intercettata Dai carabinieri Che hanno intimato l'Alt Ma l'automobilista Ha speronato la gazzella dei militari Ed è iniziato una fuga Per le vie di Casale Fino a questa rotonda I malviventi Poi a folle velocità Hanno preso la rotatoria Contromano Andando a sbattere Contro una Fiat 500 A bordo della quale C'erano un 68enne Ed una 47enne I residenti della zona Feriti fortunatamente In maniera lieve Due cittadini Così come due carabinieri Ho visto la macchina Proprio rovesciarsi Proprio da dietro Praticamente la mia macchina I malviventi Sono riusciti ad uscire Dalla lancia delta Ed hanno iniziato la fuga A piedi Scavalcando delle recinzioni Ho visto i carabinieri Che dicevano Andiamo verso di là Penso che Mi seguissero uno Dei malviventi Credo E poi li ha visti Perché uno è stato catturato Da quello che ho visto Uno lo stavano mettendo in macchina Credo che sia Perché ti dico Da qua Là sono 100 metri Era buio Ma penso di aver visto così Sono momenti concitati Sono le 20.30 E tutto accade sotto gli occhi Impietriti di molti cittadini Solo un'ora prima A San Cipriano di Roncade Un cittadino aveva messo in fuga Due uomini con passamontagna Che erano entrati nel giardino di casa Un tentato furto Potrebbero essere gli stessi malviventi Intercettati dai carabinieri a Casale Tanta paura Ci dice Massimo Io mi fermerei Sinceramente La paura Quello di dire sempre Lo attacco Non è vero Credimi Ti inchiodano le gambe Anche ieri sera Mi sono stato inchiodato qua Perché non ho avuto il coraggio Di avvicinarmi Ma era un po' Tremenda la situazione Un malvivente è stato arrestato Si tratta di un 28enne cittadino rumeno Senza fissa dimora Gravato da pregiudizi per delitti Contro il patrimonio Per lui scattano le accusi Di resistenza pubblico ufficiale Fuga a seguito di sinistro stradale Omissioni di soccorso Danneggiamento E lesioni personali colpose Dentro l'auto Dei malviventi Vengono trovati monili in oro E arnesi da scasso È caccia al complice Che è riuscito a far perdere le tracce E poi la cronaca Ci porta nel Padovano C'è stata una rapina Ieri sera intorno alle 20 In un parcheggio Alla periferia di Monselice Nei pressi del casello autostradale Vittima una 45enne Che dopo aver chiuso la sua attività Stava andando alla macchina Per rientrare a casa Due banditi l'hanno affrontata Le hanno strappato la borsa Contenente qualche migliaio di euro I due a volto coperto Sarebbero fuggiti a bordo Di una Ford Fiesta Parcheggiata Poco distante Sul posto I carminieri Sicurezza Tema principale A Vicenza Sia per i cittadini Che per le istituzioni Dopo il consiglio comunale Di ieri Oggi il sindaco Giacomo Possamai È andato a Roma Dal ministero dell'interno Matteo Piantedosi Questa mattina Ho incontrato a Roma Il ministro Piantedosi Il sindaco di Vicenza A Roma Dal ministro dell'interno Obiettivo Chiedere il ritorno Dell'esercito Sulle strade Della città Gli avevamo scritto Nelle scorse settimane Per chiedere L'invio anche a Vicenza Di una parte Del contingente Destinato all'operazione Strade Sicure Il contingente Dell'esercito Che dal 2017 A 2022 Era presente anche a Vicenza Nella zona Di Campomarzo Presidiando l'area E sgravando le forze E l'ordine Dal controllo Di quella zona Della città I vicentini Chiedono risposte Rapine Furti Sporcizia Bivacchi C'è un escalation Della criminalità E la questione è finita Dritta in consiglio comunale Dove il centro-destra Ha chiesto all'amministrazione Soluzioni concrete Abbiamo portato a casa Delle risposte concrete Delle interesse Dei residenti E lo abbiamo fatto A partire Da dei presidi Di cautela E di vigilanza Nei parcheggi Più sensibili Della nostra città Parc Matteotti Parc Verdi Parc Fogazzaro E il parcheggio Dell'ospedale Abbiamo chiesto Un rafforzamento Intenso Delle telecamere In città E una videosorveglianza Integrata Tra forze dell'ordine Commercianti E residenti A passare all'unanimità Anche la proposta Firmata da Raffaele Colombara Della lista Per una grande vicenza Cioè di affiancare Le forze Di polizia locale Le forze Di pubblica sicurezza In questo momento In cui c'è una carenza Di organici Degli agenti Di vigilanza privati In modo che Il territorio Risulti maggiormente Presidiato In questo momento C'è bisogno Che l'amministrazione Faccia vedere La sua presenza Sul territorio Vicino ai cittadini Vigilantes Che agiranno A stretto contatto E a supporto Delle forze Dell'ordine La sperimentazione È previsto Che parta Con dei fondi comunali Entro la fine dell'anno Nei quartieri A più alta Tensione sociale Servono Risposte concrete Ecco perché Oggi Dopo il consiglio Comunale Di ieri sera Il sindaco È subito volato A Roma Dove ha incontrato Il ministro Dell'interno Matteo Piantedosi Per chiedere Il ritorno Dell'esercito Sulle strade Il ministro Ha preso in considerazione La richiesta Insieme a questa Abbiamo anche chiesto Di aumentare Il numero di agenti Delle forze Dell'ordine Sul territorio Insomma Un incontro positivo Con il ministro Di centrodestra E su questo punto L'ex sindaco Francesco Rucco Non può che ricordare Che anche lui Aveva chiesto Un incontro Col ministro Dell'interno Ma Del governo Precedente Il sindaco Va dal ministro Dell'interno Piantedosi Che molto cortesemente Lo accoglie E apre Le porte A differenza Di quello che aveva fatto Ad esempio Con Vicenza Il ministro Lamorgese In passato Un ministro Piantedosi Che ancora una volta Dimostra la sua attenzione Verso il territorio L'intervista In esclusiva Della nostra Ilaria Marchiori Ad un ex dipendente Della linea Che ha evidenziato Anomalie Nelle sterzate Di quei mezzi E oggi siamo andati A fare noi Delle verifiche Su strada Presenta Delle anomalie Magari Sullo sterzo Cioè Ovvero Nel girare Non è come un mezzo A gasolio Che quindi Ha un'ampia sterzata Si fa Si fa fatica Basta vedere Le strade di oggi Che ci sono a mestre Tipo Ad asseggiarlo Pensate A un 47H Elettrico Che fa fatica A sterzare In quella rotonda Mentre un mezzo A gasolio Riesce meglio A eseguire Una manovra Questo è un lato Di fatto Potete recarvi Ad asseggiarlo E guardare Vicino alla chiesa Insomma Proprio per essere preciso E guardare Che deve fare Tre manovre Per girarsi Su quella rotonda All'indomani Delle dichiarazioni Ai nostri microfoni Di un ex dipendente Della linea Che ha parlato Di alcune anomalie Allo sterzo Soprattutto sui mezzi elettrici Ci siamo recati Proprio come diceva Ad asseggiano Per verificare In effetti A giudicare Da queste immagini Sembrerebbero proprio Esserci delle difficoltà Nella curva Rispetto agli altri autobus Che invece Riescono a svoltare Senza problemi Questo mezzo Che si è trovato A dover dunque Effettuare Più di una manovra Come si vede In realtà Non è elettrico Ma a gasolio Eppure La limitazione Nello sterzo Si vede Potrebbe anche Trattarsi di un autista Poco esperto Vero Ma quanto affermato Dall'ex dipendente Trova in realtà Conferma In altre testimonianze Le vedo arrivare E vedo anche Dallo specchietto Che molte volte Fanno difficoltà A fare la rotonda Con un unico Sterzo data Ma usano Spesso l'elettromarcia Sono mai guidati Ma presumo che Se 9,5 su 10 Fanno l'elettromarcia Sia anche Dovuto allo sterzo Magari ci potrebbe essere Anche l'errore Dell'autista Ma 9 su 10 Mi dà Da dire Che lo sterzo Influisce In maniera Pesante Su questa manovra Intanto Domani mattina Si terrà Al sopralluogo Dei periti Sulla rampa Rizzardi Dove la sera Del 3 ottobre È precipitato Provocando 21 vittime Il bus Della linea L'obiettivo È verificare Lo stato di salute Della rampa A partire Dalle condizioni Del Garrei Per cui La perizia tecnica La procura di Venezia Nominato Placido Migliorino L'ispettore del MIT Già consulente Nelle indagini Sul ponte Morandi Di Genova E poi Tanta paura Questa mattina Siamo in provincia Di Treviso Moriago Della Battaglia Un autobus Della MOME È uscito di strada Finendo con le ruote Nel fossato Guardate La strada stretta La pioggia battente Il bus Che si avvicina Al ciglio Esce dalla careggiata Asfaltata E finisce con le ruote Sulla banchina Di terra battuta Che cede Il bus Si inclina Pericolosamente Ma fortunatamente Non si capovolge Nel fossato Attimi di paura Questa mattina In via Monte Grappa Moriago Della Battaglia Per un pullman Della MOME Finito fuori strada A bordo Oltre all'autista Due passeggeri Fortunatamente Nessuno è rimasto ferito Probabilmente Questa è un'autobus A tre assi Quindi 14 metri 14 metri e mezzo L'autista Probabilmente Ha messo La ruota destra Sul ciglio Della strada In quel momento Pioveva E quindi Non ha tenuto il ciglio Si è leggermente Appoggiato Sulla destra Per fortuna Non è successo niente L'autobus Non ha avuto conseguenze E soprattutto Non ha avuto conseguenze Nell'autista Nei passaggeri Certo che Quella strada Basta mettere un attimo La ruota destra Nel ciglio Della strada E l'autobus Non può rimanere Incarezzata Sul posto Sono subito intervenuti I vigili del fuoco Arrivati da Conegliano E Treviso Con l'autogru Il mezzo È stato messo in sicurezza E poi recuperato Nel frattempo Un altro bus Della MOM Ha provveduto A caricare autista E passeggeri Certo che Dopo quanto accaduto A Mestre L'attenzione Sulla sicurezza Dei bus È massima Anche alla MOM Stiamo anche noi Alzando il livello Di sicurezza Degli autobus Stiamo facendo Un piano Di rinnovo Completo Del parco mezzi In tre anni Dovremmo portare Il nostro parco mezzi A un'anzialità Di otto anni Quindi con investimenti Importanti Nell'arco Di nove anni Faremo un investimento Sui autobus Di circa 80 milioni di euro Questo proprio Per mettere In sicurezza L'utenza E i nostri artisti Che guidano l'autobus Vista da Bob Oggi Il CDA Di Fondazione Milano Cortina Si è riunito Alle 12 A Milano C'è un nulla Di fatto Però nelle decisioni Vediamo Cesana Turinese Cortina Ad ampezzo Queste le due ipotesi Tornate sul tavolo A poche ore Dall'incontro Del CDA Della Fondazione Milano Cortina Previsto per oggi A Milano Anticipato Da un vertice politico In cui erano presenti Entrambi i presidenti Di regione Luca Zaia Tilio Fontana I sindaci Giuseppe Sala E Gianluca Lorenzi Un incontro Che non ha dato Al territorio Le risposte Che aspettava Restano le due ipotesi Sul tavolo Ma poco trapela C'è stato un ampio confronto Si legge In una nota Diffusa Dalla fondazione Volto alla condivisione Di approfondimento Che si completerà Nei tempi già condivisi Con il Comitato Olimpico Internazionale Nella nota Si legge anche Che l'incontro È servito Ad avviare i lavori Per aggiungere Il Veneto Alla candidatura Di Lombardia e Trentino Ai prossimi giochi olimpici Giovanili Invernali Del 2028 Coincidenza vuole Però che nelle stesse ore La deputata Luana Zanella Presentasse Questo esposto Alla Corte dei Conti Per fare chiarezza Su quanti soldi pubblici Siano già stati spesi E sul perché Sia stato impiegato Tanto tempo A Cortina Per la rimozione Della vecchia pista Sono già stati spesi 3 milioni e 800 mila euro Ieri nel tardo pomeriggio Un lancio d'agenzia Faceva sapere Che il progetto Per Cesana Prevede un investimento Di 33,8 milioni Ed un anno di tempo Per i lavori Una cifra Decisamente inferiore A quella prospettata Per l'adeguamento Della pista di Cortina Ma dalla regina Delle Dolomiti La Confcommercio Inizia a fare la voce grossa Ritengo comunque Che se ci viene tolto qualcosa Per lo meno Ci venga ricompensato In qualche altra maniera Il territorio Si aspetta questo Abbiamo fatto Grandi sacrifici Quindi Andiamo Con intelligenza A operare Sapendo Che ci sono Degli operatori economici I miei associati Che hanno speso Tempo Risorse Per questa grande Manifestazione Non lasciamoli soli Ci fermiamo A pochi secondi Di pubblicità Tg del Veneto A Treviso Ora con L'allarme Bomba Scattato Questa mattina In Tribunale Vediamo Alle 11 In Tribunale Esploderà una bomba Ha pronunciato solamente queste parole al telefono La voce di uomo che poco dopo le 10 Ha chiamato la centrale operativa della questura di Treviso Annunciando nel palazzo di giustizia di Via Verdi Un ordigno All'ingresso in un paio di minuti si è presentato una volante della polizia Gli agenti hanno comunicato l'ordine di immediato sgombero dell'edificio In cui come ogni martedì le aule sia del penale che del civile Erano affollate per le udienze in calendario Tra dipendenti, magistrati, avvocati, privati cittadini Sono state evacuate oltre 200 persone Con tutti i disagi legati alla sospensione dell'attività giudiziaria E all'uscita all'aperto per un tempo indefinito Sotto la pioggia battente Sul posto nel frattempo sono arrivati anche carabinieri Polizia locale e vigili del fuoco E fatti intervenire gli artificieri della polizia di stato da Venezia Nell'arco di circa due ore l'intero edificio è stato bonificato E l'allarme è rientrato Non sono stati rinvenuti né borse né pacchi sospetti La cui introduzione nel palazzo sarebbe comunque resa difficile Dalla presenza all'ingresso del metal detector Un ampio dispiegamento di forze Che ha consentito alle 12.30 di far rientrare i tanti Che hanno pazientemente atteso all'esterno Avevamo circa tre squadre intervenute sul posto Più l'ha parato un funzionario per la gestione della sicurezza Del soccorso eventuale Noi siamo sempre in supporto Le indagini proseguiranno ora da parte della questura Per cercare di individuare l'autore della chiamata Un mitomane o come già accaduto in passato Qualcuno che voleva far saltare un'udienza fissata per la mattinata Grazie per essere stati in nostra compagnia Siamo alle previsioni del tempo Arrivederci L'UNICSTAR Le uniche pagliette antibatteriche in commercio Prodotte anche per i marchi più importanti Sia nazionali che internazionali Ben trovati al meteo La giornata di mercoledì 25 ottobre Sarà ancora piuttosto movimentata La perturbazione si allontana lentamente Influenzando però ancora il tempo sul nostro territorio Nel dettaglio sul Veneto Il cielo risulterà coperto al mattino con piogge sparse Col passare delle ore poi schiarite più ampie E precipitazioni in diradamento Temperature con contenute variazioni di carattere locale Minime sugli 11-13 gradi Massime comprese tra 17 e 22 gradi all'incirca Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia Anche qui inizialmente saranno possibili dei rovesci Un po' ovunque in esaurimento dal pomeriggio Con qualche parentesi più asciutta Temperature minime tra 12 e 16 gradi Massime sui 18-20 gradi Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige Dove di fatto avremo ben poche novità Precipitazioni residue di mattina Schiarita nelle ore centrali della giornata Temperature minime intorno agli 11-12 gradi Massime sui 18-19 all'incirca Dal Meteo è tutto Vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia L'UNICSTAR Le uniche pagliette antibatteriche in commercio Prodotte anche per i marchi più importanti Sia nazionali che internazionali Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti